Ciao ragazzi, ciao ragazze, siamo in un nuovo video da Nuleseku con i nostri tutorial sulle basi delle protesi di capelli in stock nel nostro negozio online nuleseku.net. Oggi, se vedete, abbiamo una base in parte simile alla base IAR, però con delle differenze importanti che ora vi descriverò. Ha una tira in poliuretano che è molto più larga e quindi vi permette molto più gioco, molta più possibilità di ritagliarlo sulle vostre misure. Inoltre, la tira in poliuretano rispetto alla base IAR è più sottile. Il centro poi è fatto da un lace French che ha una morbidità maggiore rispetto a quella del sistema IAR. Questo sistema quindi in parte assomiglia all'IAR, però ha anche delle differenze. Come l'IAR vi assicura una forte adesione perché ha un perimetro in poliuretano molto grande, però vi permette anche la traspirazione del lace. È un sistema adatto a quelle persone che vogliono una grande facilità nella pulizia del sistema grazie al perimetro in poliuretano, una forte adesione sempre grazie al perimetro in poliuretano, ma anche una traspirazione data dal centro in lace. È una base che, a differenza di quelle che hanno il frontale in lace o in skin super sottile, non vi permette la totale esposizione del frontale. Se però avete una leggera accortezza nell'usare i tapes e nell'usare i collanti, potrete vedere che anche con questa base potrete avere un frontale abbastanza invisibile. È un sistema che viene nelle misure 24 cm x 20 cm, poi ritagliabile sulle vostre misure. Vi ricordo sempre che se non siete capaci di ritagliare il sistema voi, ce lo potete chiedere e lo facciamo noi senza problemi. I capelli invece sono di lunghezza 15 cm con una leggera ondulazione e sono disponibili in differenti colori e anche con percentuali di capelli bianchi. È una base con grandi caratteristiche per quei portatori che vogliono uno stile un poco sportivo e che fanno molto sport e che anche sudano molto e hanno bisogno della traspirazione, di sentire quando fanno la doccia, che l'acqua gli va sulla pelle. Spero che questo video vi sia piaciuto, che gli possiate dare like. Vi invito anche a iscrivervi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto e vi ricordo che abbiamo tanti social. Se avete dubbi o domande vi ricordo che abbiamo un agente in Italia sempre disponibile a rispondere ai vostri messaggi sia per Whatsapp o alle vostre chiamate e anche ai vostri messaggi tramite email. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!